Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPL per lavori di messa in sicurezza presso il viadotto del Turbone ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, con code in uscita Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Un chilometro di coda per incidente tra Firenze-Scandici e la Strassigna verso Livorno, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandici in entrambe le direzioni, in A11 code tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa, code in uscita a Montecatini provenendo da entrambe le direzioni, in A12 code tra Versilia e Massa verso Genova. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!